Buonasera, siamo qui nel canaparabendio e la famiglia e la Miriam, ci accingiamo a questa nuova avventura, il parapendio. Miriam, come ti senti? Mi viene da comido, no, tutto bene. Stai bene? Sì, stai bene. Mi stai prendendo troppo da vicino. Per sentire quello che ti dici? Sì, stai bene. Stai bene. Quindi tutto quello che ci visse lo sentassimo, morire e finire in mille fessi, era una scelta. Non so se ce l'ha. Bene. Puoi fare un'altra riccazione? Cosa? Sì, questo è l'ultima volta che mi dedo. 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 Sto sbagliando il mondo. Ciao a tutti. Vi state vedendo. Siamo bella? Ho spesso Ho bella tanto porire O tanto? Ho sentato... atento? Ho sentato la lanta? No Stai molto lì ragazzi Sì Che meraviglioso Sì 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 ok, 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 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 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go Sì, Sì, Sì. Ok, se vette! Come andata! Come Stice? Sventi! sei sopravvissuta? si! non sei morta? no! sei sopravvissuta! chi sta sarebbe a essere caldo? un commento a caldo? no dai, lei sta sarebbe a essere...